Siamo un minuto. Condannato alla prima corte d'assisi del tribunale di Roma ad anni 30 di reclusione. Oh, manco una lettra, so buona a scrivere. Ma cazzo ci fa lui con me proprio? Io scrivo, tu mi dici. Caro Danilo, so come ti sento in questo momento. Come uno che deve combattere da solo contro il mondo intero. Ma che non lo amo più a Danilo. Io non ho capito. Se lei è una parente, cosa è moglie, fidanzata, sorella? No, io non lo conosco. E lei perché è venuta qua, mi scusi. Voglio incontrarla. Caro Danilo, lo so come ti senti in questo momento. Come uno che deve combattere da solo contro il mondo. Come ti chiami? Katia. Io non so che dire. Quando è così è meglio che non lo dice. Ci siamo conosciuti e piaciuti prima di incontrarci. L'unione sublime di due anime non conosce barriere. Mettimela. Ma te la sei regalata da sola? Ma che ti cambia? Scusi, le so che tu delle... Che faccio? Fai l'uomo. No! Scusate se interrompo. C'è un vostro collega al piano di sopra che ha detto un'uomo d'aiuto. Dice se può salire qualcuno. Grazie a tutti.